Ha perso il controllo del proprio motociclo mentre attraversava via Niscemi, finendo per schiantarsi contro una vettura parcheggiata a bordo della carreggiata. E quando i poliziotti delle volanti sono arrivati sul posto si è anche rifiutato di sottoporsi ai controlli per verificare se avesse assunto stupefacenti. Una serata movimentata quella di ieri per il protagonista in negativo della vicenda, che è stato denunciato in procura per avere provocato un incidente stradale mentre guidava sotto l'effetto dell'alcol e per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti. Sul posto, oltre ai poliziotti, è arrivata anche un'ambulanza del 118 che ha accompagnato l'uomo in ospedale, dove è stato riscontrato che questi avevano un tasso di alcol nel sangue superiore alla soglia di guardia. Dagli accertamenti è emerso anche che l'uomo guidava il motociclo pur avendo una patente diversa da quella prevista per legge e che il mezzo a due ruote non era stato revisionato. Quindi, oltre alla denuncia penale, sono scattate le sanzioni amministrative.